Ciao a tutti che è l'ascoltatore di Meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a mettere un'allerta per il ritorno di forti temporali, ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. Per voi un piccolo gesto, ma per noi è importantissimo e iscrivendovi e attivando la campanella arriveranno direttamente le notifiche sui vostri dispositivi, così da rimanere sempre aggiornati e senza dover andare a cercare ulteriori informazioni. Vi ringraziamo della vostra iscrizione e andiamo subito a vedere cosa accadrà oggi. Bene, a partire dall'ora di pranzo, dei forti temporali si andranno a sviluppare su tutto il centro e nord Italia. Come possiamo notare, possibili rovesci si troveranno quelli più deboli sulla Liguria e forse anche nelle aree interne tra Toscana e Mila e Romagna, ma stiamo parlando di piogge veramente molto leggere, perché le vere precipitazioni si andranno a creare sull'estremo nord. Come possiamo notare da queste immagini, i temporali si andranno a sviluppare verso mezzogiorno o luna e durante il pomeriggio prenderanno sempre più potenza. Le aree coinvolte saranno il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Trentino, il Friuli e il Veneto. Queste precipitazioni al loro interno, durante questi forti temporali, potranno avere anche forte vento, quindi venti fino a 100-120 km orari e grandine di media o grande dimensione. Attenzione, perché proprio durante poi il tardo pomeriggio arriveranno i fenomeni più intensi, purtroppo su regioni già colpite come Veneto e Friuli e come possiamo notare da queste immagini, durante la serata e anche la nottata queste precipitazioni interesseranno il nord-est. Poi arriverà la mattina e questi rovesci si andranno a spostare verso i Balcani lasciando il bel tempo sulle nostre regioni. Attenzione a una delle regioni che potrebbe essere anche più coinvolta è proprio il Trentino, dove qua si andranno a sviluppare i temporali. Invitiamo la massima cotella, quindi stare lontani da alberi e anche mettere le macchine al riparo e tenere la massima allerta se di fronte vediamo che un temporale si sta per avvicinare, perché i temporali che si stanno creando ultimamente sono veramente, veramente, devastanti. Per il resto d'Italia invece non si vede niente, solamente un possibile passaggio nuvoloso, un po' di foschia sul resto delle regioni in maniera alternata e temperature che rimarranno nella media stagionale o forse anche qualche grado al di sotto. Attenzione perché all'interno proprio di questi temporali le temperature potrebbero crollare anche di 6 gradi, portando le termiche fino anche a temperature che potrebbero toccare 18-19 gradi. Vi ringraziamo della visione e vi invitiamo nuovamente ad iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo.